All'istituto scolastico Alessandro Volta di Frosinone, Amedeo di Sora ha presentato il suo nuovo libro Anton Giulio Bragaglia tra innovazione e tradizione. Un volume interamente dedicato al regista, critico cinematografico e saggista di Frosinone. L'incontro ha visto la partecipazione degli studenti del corso di fotografia dell'istituto Alessandro Volta. È stato veramente un piacere poter parlare di Anton Giulio Bragaglia e presentare il mio libro Anton Giulio Bragaglia tra innovazione e tradizione, che sto presentando in diverse città e paesi, i luoghi della nostra provincia, Mosul, Rai, Cabruma. Su questo nostro grande conterraneo, Anton Giulio Bragaglia è stato un personaggio straordinario che ha saputo veramente esprimere al tempo stesso grandi capacità di innovazione e nello stesso tempo anche la grande volontà di saper recuperare ciò che di innovativo viene la tradizione. È importante che soprattutto gli studenti e anche le scuole si attivino per far sì che i personaggi di questo canibro della nostra città possano essere adeguatamente buonosciti. Togito Bragaglia per me è stato un modello fin dagli inizi in cui ho iniziato, fin dagli inizi in cui ho fatto teatro, perché rappresenta quella dimensione di ricerca che ha animato la mia di canzone teatrale. Quindi è per me un grande umore, un grande piacere poter divulgare la sua opera nella nostra provincia.